Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sullo speciale Halloween E faremo quest'horror The Deepest Leap Si sembra un po' uno schifo Scusate per la qualità ma oggi Frappsy ha deciso di rompere le palle Quindi iniziamo Ok iniziamo subito questo Gioco mi sento un idiota E non ci vedo un cazzo A game by sis Cioè non ci vedo un cazzo New game Si siamo nella nostra stanza Ehm che cazzo devo fare Sparare Fuori e not Ok Il mio letto non posso muovermi Che cazzo devo fare Cos'è sto coso Oh mio dio non posso muovermi Stai a guardare Scusate di tua madre troia Che cazzo era Ok abbiamo una torta Cos'è sto coso Ehm qui c'è delle ragnatele Cos'è sto a fare Ah era le opzioni Vaffanculo Ehm la porta Ehm la porta E' chiusa E allora che cazzo Ma cos'è sta a fare Che cazzo è Ah certo io con Con una bottiglia di vetro Con le porte Normale Andiamo verso la luce Sembrano due occhi blu Che cazzo sono Sono diamanti di minecraft E io non ci andrei mai in quella porta Cos'è sta a fare Una pietra di Scultura Che cazzo Qui c'è un caso rosso Ho visto Che cazzo devo fare Usiamo la bottiglia Oh mi ha fatto tornare Ah ma si suona così indietro Ma la fa alcuna Ehm che cazzo è sta roba Feeling Questo Si col cazzo Sennò mi metto a leggere Prendiamo indietro Va Andiamo di qua Oh una porta E' aperta Strano Cos'è Cuscino Farina Qui c'è del sangue Che è stato Cacciavite Martello Sì certo Voi vi aspettate Che io legga Sì sì Ok mi sa che Dobbiamo andare a distruggere Quella specie di scultura Allora Spacchiamo col martello Perché siamo Anche questo Dai Su Spacchiamo tutto Su Che cazzo devo fare Beh che devo rubarmi Sta roba No Non posso fare Il cazzo Ok torniamo di qua Ehm Proviamo il carciavite No Proviamo il martello Che cazzo Ah è prova bottiglia No Allora Allora torniamo di qua Magari c'è qualcosa Ma se poteva andare in là Ma va Allora C'è una gemma Quindi proviamo Quel cacciavite Che cazzo Oh ho preso la gemma Qui ci vuole una chiave E io entro quel cacciavite No invece sì Decido io Cazzo Spaccala col martello Ok Torniamo indietro Vediamo se qui c'è la chiave Vediamo se la posso riprendere Cacciavite Cazzo Combinare gli oggetti Beh C'è una gemma Ma vaffanculo Non era in mezzo Quando era così semplice E ora è aperta di là No è aperta qui Oddio che figata Un piccolo buco Infiliamoci qualcosa Non pensate male Un piccolo Un piccolo Un piccolo Qui si apriva la barcasa Non avvitarci questa Ok Che cazzo è Guarda qui Un piccolo Spiriamo nell'alto buco Spiriamo nell'altro buco Spiriamo nell'altro buco Spiriamo nell'altro buco Ehm Diccazzo Di un po' Spiriamo nell'altro buco Allora facciamo sempre Facciamo Dai madonna Non me lo senti là nella giornata in un buco Vedeste qualcosa Che cazzo è un bene Forse questo serve per tagliare Il filo di là Cazzo devo ritagliare tutto Ok Bianco Dov'è il bianco? Fa qualcuno però Toglio con la torta in tempo di piccola Non ci credo Che c'è successo? Un'uscita Torniamo indietro Usiamo sta merda Ok Ora gira 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 Dovrebbe avermi aperto la porta di là La regola Sì Allora l'acqua non mi piace Per niente Eh niente Mi stiamo andando avanti No 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 Lampadina non si può consumare Allora Sponde avanti E a destra Ok a destra Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo è brutto? Che cazzo è brutto? Allora Allora Aspetta ho un'idea Ma perché me lo ridai? Ah e come diceva di là Ok Mi devo trovare davanti Eh Oh Vediamo tutto qua Non posso raggiungere Ah Devo andare Devo andare Con la stanza No 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 Olio Ah l'olio è vuoto Ecco perché non va Allora Andava a riempitare i fiumi Ma non me lo riempie O Prima devo farci qualcosa Devo levare l'olio Vedi come Con questo Yes Oh Spacca a martellate Funzionato Ok Abbiamo l'olio Allora no Proviamo a tornare Dove è il primo Ora me lo prendi l'olietto No Ah Devo prendere prima il pezzo Ok L'olio è qui Ok No No Ancora quello schifo Ma cosa Ma sono andato nella porta No 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 Non ho idea che sono voluto tutto un cazzo Cioè Il video Perché se no viene una cosa lunghissima Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace E se non siete ancora iscritti iscrivetevi E iscrivetevi anche alla pagina di Facebook Noi ci vediamo al prossimo video Ciao